Allora, io starò nei tempi, non dirò le cose di Mario, ma dirò le cose di Finmeccanica, anche perché lui potrebbe dire qualcosa di Finmeccanica e io un po' meno quello che dice lui. Allora, mi presento, io lavoro in Finmeccanica e sono il direttore del Master accreditato da Asfor, ringrazio per l'invito che ci ha fatto Asfor, vorrei portare soltanto una rapidissima testimonianza ed andare un po' per differenza rispetto a quello che è stato detto finora, magari per non ripetere, perché tendenzialmente i Master si assomigliano un po' tutti, il nostro è un Master interno, però è sempre un Master di formazione manageriale. Quello di cui voglio parlarvi invece è il perché Finmeccanica ha bisogno di una formazione che io non sono d'accordo, non chiamiamo i learning, ma chiamiamo globale. Perché? Perché noi siamo fatti, vediamo se riesco a scorrere, siamo fatti in un modo particolare, facciamo tante cose, magari adesso siamo più presenti sui giornali per altri motivi, ma insomma siamo l'unica azienda italiana ancora a cultura metalmeccanica forte e che ha una forte presenza internazionale, quindi lasciamo stare i rotocalchi e parliamo un po' di business. Noi siamo fatti e siamo un po' complessi perché facciamo tante cose, dall'elettronica per la difesa all'energia. Non entro nei dettagli, però immaginatevi che tipo di know-how c'è all'interno di Finmeccanica. Qua non parte l'animazione, non so perché. Comunque immaginatevi una presenza nel mondo molto, molto, molto forte. No, ma non importa, tanto non... Quindi siamo in tutto il mondo, siamo 75.000 e quindi perché abbiamo bisogno di una formazione globale? Perché dobbiamo raggiungere tutte le persone. In corporate, dove lavoro io, si fa tendenzialmente formazione manageriale, poi ovviamente in ogni azienda, in ogni business che veniva rappresentato nella chart precedente, si fa formazione tecnico-specialistica. La formazione tecnico-specialistica del gruppo Finmeccanica è una roba molto pratica, cioè si fa con, toccando gli elicotteri, c'è una scuola di formazione per esempio in Augusta Westland e fanno, montano gli elicotteri o li smontano, quindi è una roba pratica. Noi ci occupiamo di formazione manageriale, soprattutto di talenti, perché quello che ci serve è garantire diciamo una pipeline di successione importante, perché immaginatevi quanto cambia il business nell'arco del tempo e noi dobbiamo garantire comunque di mettere la persona giusta nel posto giusto al momento giusto. Questa è un po' la mission del gruppo. Come si fa a raggiungere tutte quelle persone, 75.000 persone in tutto il mondo, 42.000 in Italia, ma veramente poi in Australia, piuttosto che in Brasile, negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Francia, in Polonia, dove vi viene in mente? Noi abbiamo quantomeno un ufficio commerciale, se non addirittura una fabbrica, con tutti quei business e immaginatevi un mondo, quello di Finmeccanica, fatto da quattro generazioni. Quindi abbiamo i neolaureati, i neoassunti, 25 anni, e abbiamo i top manager che ce n'hanno più o meno 65, il nostro presidente tuttora in carica ce n'ha 73, quindi da 25 a 73. Persone diverse, culture diverse, know-how diversissimo, mestieri diversi, culture diverse e soprattutto età diverse, quindi linguaggi diversi. Ad ognuno di loro noi dobbiamo garantire il fatto di essere intercettato. Quindi l'immersione del talento ci deve essere a tutte le fasce d'età, da quando uno entra a quando uno esce e da noi si esce solo orizzontali, come dice sempre il mio responsabile, perché a Finmeccanica non se ne va nessuno, noi abbiamo un turnover, noi tipicamente uno entra in Finmeccanica e ci esce addirittura, apre una parentesi simpatica, noi premiamo la tradizione, quindi c'è una cosa che si chiama Signores, per cui se uno è 30 anni e è stato in Finmeccanica, gli diamo l'orologio, Remo lo sa bene, gli diamo dei benefit, addirittura un anno di stipendi e così via. Questo perché? Perché il know-how di Finmeccanica è un know-how importante, quindi immaginatevi che tipo di know-how ha un capo commessa del Boeing 787, che è il nuovo dreamliner bellissimo della Boeing che costruiamo a Grottaglie, quella persona lì va mantenuta, il know-how di quella persona lì va trasferito e quindi noi cerchiamo in tutto il ventaglio delle nostre iniziative, dai new graduates al top manager di mettere in connessione le persone e questo le tecnologie ci aiutano tanto a farlo, perché altrimenti ci sarebbero i famosi costi di trasferta, diceva il collega, che salirebbero non soltanto i costi di trasferta ma anche i costi del lavoro. Immaginatevi un top manager di Finmeccanica, una persona come il nostro amministratore delegato, Giuseppe Orsi, che va a parlare come testimone all'iniziativa del new graduates. Il sistema di videoconferenza ci aiuta parecchio, quindi ovviamente come dice sempre il Calvani, che è stato il mio professore, che adesso sta di là, la rete avvicina e quindi per noi la rete avvicina, quindi noi riusciamo attraverso le tecnologie, un mix pazzesco di tecnologie, a mettere in comunicazione tutti i nostri target. E poi c'è un altro pezzo che aggiungo, perché altrimenti la formazione resta sempre quella parte ancillare dell'HR che tipicamente in momenti di crisi, come diceva Remo, viene tagliata. Vero, da noi non funziona la formazione da sola, noi siamo formazione e sviluppo sempre. E poi c'è una parte di organizzazione e gestione che è comunque molto legata. Questo perché? Perché la formazione da sola non basta, lo sviluppo da solo non basta, la gestione da sola non basta, cioè non basta pagare di più una persona affinché questa persona performi meglio. Sicuramente la dobbiamo formare. Non la costringiamo, diciamo non è coercitivo il fatto di partecipare alle nostre iniziative, ma anzi è una cosa molto a cui le persone aspirano, perché leghiamo la partecipazione alle nostre iniziative con un sistema di sviluppo manageriale molto importante. Non c'è una ricorrenza uno a uno, cioè non è che io faccio il master best, il master nostro certificato ASFOR e il giorno dopo divento quadro, ma di sicuro se non lo faccio non lo divento. Quindi ci sono delle policy che vengono applicate a livello worldwide, perché ovviamente siamo fatti di tante aziende, ma poi siamo anche un gruppo, quindi c'è una policy che dice tu mi candidi all'iniziativa a una persona che sai già, hai fatto un assessment, hai fatto il potenziale, hai visto la performance, hai visto il percorso di crescita, sai che tipo di esperienza professionale ha, candidami una persona che fatto il master, ora c'era l'esempio del master che è quello più vicino sicuramente alla cultura di ASFOR, fatto il master gli colmo quel gap di competenze manageriali, gli costruisco una rete di relazione, questo sì a livello worldwide che gli servirà poi per agire un ruolo manageriale. Quindi non discostiamo mai né formazione né sviluppo e non separiamo mai il bouquet di formazione, quindi questi ragazzi fanno dall'outdoor al networking, hanno le comunità di pratica, hanno le comunità di apprendimento e tipicamente, e questo è il modello, magari se svicciamo all'altra presentazione, cosa hanno in più questi ragazzi? C'hanno il peer to peer, perché è una roba che funziona tanto soprattutto sui giovani, ora mi sono focalizzata sul target giovani ma funziona così anche per i top manager, funziona lo scambio, quindi se io faccio in modo che un ragazzo all'interno del master abbia a rotazione la parola e racconti quello che è il suo know-how, l'esperienza, ci studi dietro, la sappia in qualche modo trasferire, lui attiva tutta una parte metacognitiva che gli fa andare in profondità sulla sua competenza e quindi la approfondisce, ma soprattutto è in grado di trasferirla. A quella poi ci attacchiamo dei pezzi molto molto verticali e quindi di approfondimento tematico. Questa è l'immagine che noi usiamo al master best, abbiamo usato apposta, forse è una metafora un po' inflazionata ma noi ce l'abbiamo dal 2005, che è quella del rugby, perché il nostro master, e aggiungo l'altro pezzetto, è un master che ha un punteggio e che quindi si vince, non si perde sicuramente ma si può vincere. Se si vince, quindi siamo tra i primi tre classificati, ogni edizione c'è più o meno 25 partecipanti, ne facciamo vuoto per pieno tre edizioni l'anno, i primi tre partecipano ad un'esperienza internazionale molto 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 sfidante, quindi come dire fanno un anno di master e si fortificano la parte un po' cerebrale e quindi in termini di competenze e poi si vanno a fare un'esperienza invece professionale molto immersiva. Hai studiato da manager? Vai a fare il manager, vai a fare il manager per una settimana in un'azienda del gruppo, che tipicamente non è la tua. Le ultime edizioni le abbiamo fatte per esempio in Francia, in Thales, questi ragazzi hanno agito da manager in Thales Alenia Space, due anni fa siamo stati a Edimburgo, in Selex Galileo, tre anni prima negli Stati Uniti, quindi con questa scusa dello study tour che si vanno a vedere le cose, poi agiscono un ruolo per cui hanno più o meno studiato per un anno durante il master. Se performano bene, quelle persone hanno una sorta di individual folder per cui hanno anche un assessment sul campo, questa cosa viene passata alla gestione e se tutto il processo funziona quella persona dopo un anno ha uno scatto di carriera. Ecco perché non costringiamo le persone ma è un banto venire al master, per esempio al best. Perché c'è l'immagine del rugby? Perché non è che si vince studiando da soli, che è un po' la teoria dell'e-learning, che uno se lo fa comodo a casa sua da solo, no, non funziona così. Noi abbiamo dei VBT abbastanza anche datati che li usiamo come biblioteca, quindi li teniamo lì, se uno le vuole vedere le vede altrimenti non ce ne frega niente, ma quello che fanno loro è collaborative. Loro per un anno lavorano insieme, se non sono capaci di lavorare insieme non sono dei buoni manager per firmeccanica e quindi non vincono, tra virgolette. Quindi loro cambiando costantemente gruppi di lavoro, quindi non c'è da dire che una volta sono fortunata perché lavoro in un gruppo funziona bene, la volta dopo no, quindi facciamo gruppi interaziendali, interbusiness, internazionali e i ragazzi accumulano punteggi. Uno va alla meta, come nel rugby, ma non ci va se non l'aiutano gli altri, quindi ecco perché la metafora del best. E chiudo, così sono stata anche nei tempi, l'e-learning di per sé, l'abbiamo detto, da solo non è niente, non funziona. Finmeccanica, ma aggiungo anche per l'esperienza pregressa, io vengo da Telecom Italia, allo stesso modo i grandi gruppi industriali hanno necessità di utilizzare le tecnologie, l'unico vincolo che io non vedo nemmeno più nel costo, perché se si riesce a vendere bene nel progetto i soldi invece ci sono, perché comunque è un investimento quello della formazione e ancora è percepito così. Sono d'accordo con Remo che la prima cosa che viene tagliata in azienda, ma lo sapete perché avete tutti esperienza simile alla mia, è il costo della formazione. Ma se la formazione è legata allo sviluppo e soprattutto alla gestione, non viene tagliata, perché è il momento, è il motivo per cui io posso far crescere una persona. Quindi non solo formazione, formazione legata a sviluppo manageriale e a gestione e quindi anche alla parte di compensation, alla parte economica e soprattutto per quanto riguarda i giovani cercare sempre di più, visto che sono molto demanding, apro una piccolissima parentesi, noi abbiamo in Inghilterra ragazzi che si laureano molto presto, quindi a 22 anni sono già laureati, ce ne abbiamo tanti che si laureano nelle università online e sono bravissimi ingegneri tra l'altro, sono abituati a ragionare in quel modo, sono abituati all'online, sono abituati a non sentire la distanza fisica, perché la rete è vero che da questo punto di vista avvicina. Il modello italiano invece, probabilmente il modello metalmeccanico di finmeccanica fino a veramente tre anni fa era invece esattamente il contrario. Quindi avendo appreso dai nostri giovani abbiamo cambiato il punto di vista e adesso siamo molto più vicini a loro anche come linguaggi. Quindi linguaggio che deve essere adeguato al target, quindi usate le tecnologie a seconda, l'hanno detto più o meno tutti, a seconda del vostro obiettivo formativo e poi soprattutto il peer to peer, perché e chiudo, c'è una parte di chiamiamola donatività che deve essere insegnata quantomeno ai manager del gruppo finmeccanica e quindi i ragazzi da subito devono essere messi in condizione di poter trasferire e mettere comunque a fattor comune quello che sanno e quest'idea del dono, quindi di essere trasferitori anche di esperienze e di know-how è per noi basilare perché è il punto di etica e di ontologia professionale che noi cerchiamo dei nuovi manager del gruppo. Grazie. La direi un'interessante esperienza di una grande azienda che ha una sua politica importante che mette a frutto tutti gli strumenti anche più avanzati, dalla tecnologia nella comunicazione alla creazione di comunità di pratica. Credo che proprio è un'azienda che fa questo tipo di scelta. La mia domanda che non posso ovviamente fare a lei è che tipo di problemi invece si presentano nella piccola e piccolissima azienda che spesso non hanno queste politiche e spesso non hanno gli strumenti per poterlo fare, mentre invece la grande azienda, però è interessante questo. C'è una domanda di Federici. Gli studenti di BEST sono studenti di che nazionalità? Ci sono dei gruppi misti o ne fate uno per gli inglesi? Tanto è tutto inglese immagino questo master. Questa edizione, infatti ne parlavamo prima con Mauro, l'edizione certificata è un'edizione italiana, quindi sono ragazzi che poi fanno l'esperienza internazionale. Ovviamente noi mettiamo dei vincoli perché abbiamo una parte cross di business english e quindi noi chiediamo ai ragazzi un app per intermediate e facciamo un test iniziale per vedere se il target è quello, però si parla di gruppi italiani. Sì, non nel BEST ma nelle altre iniziative che facciamo. Diciamo la parte di certificazione al momento è solo italiana. Buongiorno, buonanze buonasera. Il peer to peer, ero interessato a quello, come fate a stimolare le persone anche giovanissimi a mettere in comune, cioè che tipo di vantaggio ha poi una persona, chiaramente richiede impegno sicuramente, ma non tutti trovano stimolo a dover mettere, a comunque a trovare il tempo, a trovare la voglia, il desiderio di impegnarsi a fondo per poi creare, non so, una sorta di documento di condivisione di un'esperienza. Quindi che stimolo hanno? Non so, compensation, non so, mi sono venute in mente tante cose. Allora, se parliamo di stimoli di apprendimento, nel BEST c'è un conto che si accresce e quindi c'è il famoso punteggio di cui parlavo prima, quindi più loro mettono a fatto il comune, più vengono usando un linguaggio Facebook quotati, più raggiungono il punteggio e quindi hanno più possibilità, più mettono in comune, diciamo, più sono avvantaggiati. Sì, sì. Grazie.